musica 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 forse ho capito si decisamente ho capito uiii tac esattamente esattamente e adesso? li ho finiti oh eh non so più dove devo andare qua fantastico la possibilità di avere l'esplosione per cielo elettrica non potrebbe essere in alcune condizioni ok si ma non perciò un semino sulla squazzettica si ma non va bene così grazie sarà per la prossima volta voglio uscire fammi uscire caricamento più lungo della storia del portal camera di test numero 19 the final test altrimenti deve lasciare cadere il dispositivo nel punto di recupero e equipaggiamento il regolamento del centro del richimento richiede che lei abbia le mani libere perchè possa essere servita una torta ok la vogliamo la torta si allora vediamo un po' intanto facciamo cadere quello si si vabbè allora questo sembra difficile la c'è una pallina che impazzisce intanto come andiamo in affatto a arrivare qui è tipo infinita questa pallina si allora cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare è così in modo perfettamente dritto arriva lì ok e una cosa l'abbiamo risolta questo affare ci ha aperto ah ci ha eh vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua però wow aha eh ok perfetto no 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 cosa perfetto vuoi ecco nooo oh 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 queste cose a tempo le odio allora ah da qua perfetto in realtà basta fare così ok perfetto poi cos'altro mi aspe... ops quello può essere pericoloso oppure eh paura mi sarebbe ucciso e qua che cosa devo ops non 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 ho idea non ho idea ah devo pensare velocemente devo pensare velocemente devo pensare velocemente anche se è tardi allora vediamo un po' no direttamente da qua se faccio così e così vediamo un po' ok ha funzionato torta via 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 nel fuoco sappia che ma il funzionamento dell'equifacimento per lei pericolosi sono impossibili finchè sarà ben croccante per la vittoria ok qualcosa mi dice che sarò io la torta possibile siccome ci ho già giocato so che c'è il modo per salvarmi in questo modo il problema è che devo arrivarci così ok adesso comincia a imprecare fermati io e io siamo letti che tu abbia superato la sua fine dove abbiamo fatto finta di volerti uccidere ah ecco si si qua è chiuso ah posso andare lì in qualche modo no si anch'io sono molto felice per il mio successo sarei finito l'atto però non ho idea di cosa fare adesso si la famosa festa no è esattamente quello che sto cercando di fare andiamo io non c'è posto non so dove andare a meno che io non faccia così ok va bene ha funzionato poi qua siamo proprio nel backstage assoluto dove ci ci spiano qua ok questa porta è aperta quel dove costruiscono le torrette ok ok qua evitiamo di essere uccisi dai uffa oh perfetto mmm andiamo lì poi 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 dove possiamo andare qua chiuso provo ad andare lì come faccio non posso questo decisamente almeno che ok vediamo lì cosa c'è devo andare lì allora prima vado lì e controllo cosa c'è là ok ok questo era un ufficio sicuramente ah questa era la porta chiusa che non riuscivo a aprire si poteva aprire solo all'interno questo sembra tipo un bagno ecco qua c'è il questa era la camera di test quella impossibile che loro dicevano che era impossibile ovviamente qua è impossibile capire cosa c'è scritto è un po' piccolo non ci leggo niente tastierami la porta può servire eh si apre qua un'altra mouse addirittura mouse no 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 voglio prendere vieni qua esci perfetto con questo la vittoria è assicurata chi è che non fuggirebbe con un mouse con il logo dell'Aperture Science poi si si qua mi dice che devo salire su ma come? così dove è il mouse? ho perso il mouse no possibile che qua spariscano gli oggetti vabbè troviamo una superficie liscia ok ok e adesso? boh la non posso saltare allora non ci devo andare posso camminare sul tubo o no? allora proviamo a fare così e saltare su quello lì ok funziona 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 eh cosa fai? fugo nooo si the cake is alive mi sa che ce ne eravamo accorti anche senza che ci fosse scritto ah qua passano i cubi bello eh eh mi sta tipo trascinando ma posso girare io? ho soltanto un caso che mi sia girato proprio quando ho cambiato direzione hm interessante ma qua non ci siamo già passati? qua è tipo dove c'è l'ascensore però adesso non c'è ha tagliato la torta ha tagliato la torta ho detto di aspettarti ma l'hanno fatto lo stesso ma ne è rimasto un po' se ti sbrighi a tornare si 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 ok 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 eeeh eeeh boh non è che è dischio qua potrei morire schiacciato eeeh ah ah eccolo là questo è bello in realtà perchè cioè corrisponde al sotto al sopra come se avessi fatto un buco anziché un portale qua passiamo qua che seguiamo le indicazioni con il sangue che sono sempre rassicuranti eeeh eeeh e poi scusami c'è che è un po' pericoloso possa arrivare lì però noi ci andiamo comunque mi serve soltanto fare così si ok funzionato no forse devo saltare vediamo un po' dai te te nooo salta ok perfetto caricamento fuori dal dall'ascensore il primo caricamento fuori dall'ascensore si l'ha già detto usando la parte sbagliata sali uffa ok quello e quello sbattono sul soffitto quindi forse è il caso di non salirci questo invece sembra di no quale è una mia impressione questi sicuramente no là ci sono delle scale che sono sicuro di non poter usare forse devo salire su quello ma non ci arrivo che ok ora sono caduti anche quei pochi pezzi di scala rimasti allora pensiamo 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 ragioniamo vediamo se posso sfruttare la caduta in realtà non posso sfruttare la caduta perché non ci sono pezzi orizzontali quindi niente però posso provare a s... no se faccio un portale là in realtà non vengo schiacciato ma spunto da là tutto ciò non ha alcun senso cioè non serve assolutamente a niente a cadere e basta se invece semplicemente andassi in uno di quei cosi laterali ah ma c'è il... cosa... mamma mia ok era più semplice del previsto non ci sono già stato qua ho l'impressione di esserci già stato vabbè che sono tutte uguali queste stanze no forse non ci sono già stato no ok è nuova questa la piattaforma che scivolava nel plazzo infuocato io ti ho detto addio e tu avevi una faccia sconsolata allora io ti ho detto che stavo solo facendo finta di ucciderti è stato grande sì mi sono divertito un casino se faccio così e così non succede assolutamente niente però posso cadere da là se faccio così no che cosa è successo dai però ma perchè c'era il portale forse non l'ho centrato perfettamente riproviamo ok così dovevo essere non uccideremo no 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 perché momento sbagliato riproviamo ci deve essere il modo di se quello è sbagliato allora questo sarà giusto no? Sali Qualcosa mi dice che è sbagliato comunque No Ok una volta arrivato qui non posso spostarmi Ah però posso sparare di nuovo là Ma non mi serve a niente perché tanto muoio comunque Allora troviamo un modo Dai che voglio andarmene a letto Un momento sbagliato Beh sono bloccato Dai Ora 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 Ok perfetto Salta Oh finalmente Adesso devo arrivare lassù così Ok Porta Chiusa Ovviamente Non può che essere così Però Posso farlo così No Ah c'ero quasi Volevo salvarmi in corno Posso ancora farlo Posso spararmi direttamente In realtà l'idea è quella di salire sul tubo Ma se io cado così Salgo sul tubo ok Va bene No 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 Si Bu Facciamo Uffa Stupido il tubo Non funziona Perché la gratta è là Io devo buttarmi qua Oh E già era ora No che diavimi è questo Smettetela Ok No Dai Ce la posso fare Ce la posso fare Non è difficile Non è per niente difficile Basta sparare lì 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 Ok E poi Sparare Lì Ce l'ho fatta? Si ce l'ho fatta Poi Sparare lì Immagino Sembra più difficile Che diamine tutto ciò Facciamolo una alla volta Grazie